Il giorno fatidico del ballottaggio è alle porte, ma c'era diversi giorni. Si parla del prossimo Consiglio Comunale. Dai risultati del primo turno delle elezioni amministrative si può estrapolare l'ipotetica composizione dell'assise civica. Se sarà sindaco, Anna Maria Casini, siederebbero sugli scranni di Palazzo San Francesco, occupando i posti riservati alla maggioranza, Luigi Santiglia, Alessandro Pantaleo e Franco Di Rocco, sul Mona al centro, Andrea Ramunno e Deborah D'Amico, adesso sul Mona. I più votati Fabio Pingue e Katia Di Marzio, avanti sul Mona, Roberta Salvati, Movimento Democratico, Angelo Amori, obiettivo 2026 e Mauro Tirabassi, alleanza per sul Mona. I sei seggi riservati alla minoranza sarebbero occupati da Bruno Di Masci, Alessandro Lucci, Elisabetta Bianchi, Antonio Di Rienzo, la sul Mona che vogliamo, Fabio Ranalli, Bruno Di Masci sindaco e Francesco Berrotta, sul Mona viva. Se risultato delle urne sarà a favore di Bruno Di Masci, la composizione del Consiglio Comunale cambierebbe in questo modo, per la maggioranza Antonio Di Rienzo, Gianluca Petrella e Laura Pecilli, sul Mona che vogliamo, Fabio Ranalli e Simone Tirimacco, Bruno Di Masci sindaco, Francesco Perrotta, sul Mona viva, Donato di Cesare, forza sul Mona, Giovanni Salutari, città-territorio, Alessandro De Gennaro e Elisabetta Bianchi, forza Italia. Per la minoranza Anna Maria Casini, Alessandro Lucci, Luigi Santilli, sul Mona al centro, Fabio Pinque, avanti sul Mona, Andrè Ramunno, adesso sul Mona e Mauro Tirabassi, alleanza per sul Mona. L'apparentamento siglato tra Bruno Di Masci e forza Italia fa saltare, in caso di vittoria della Casini, il seggio minoranza Gianluca Petrella e due seggi, in caso di successo del professore, a Enea Di Anni e Guerino Mangiarelli.